Vabbè, io faccio finta di non esserci comunque. Eccolo lì! Siamo qua, adesso a girare. Signori buongiorno, allora siamo in questo momento all'interno del condominio di via Marconi al numero 15, siamo a San Giuliano e adesso vi facciamo vedere una delle operazioni che stiamo facendo. Adesso abbiamo praticamente preso questo appartamento che verrà trasformato in un tre locale. Considerando che io l'ho appena visto, quindi non l'avevo visto, non sapevo nulla, vi faccio raccontare un attimino da chi ha messo in piedi l'operazione come abbiamo fatto. Miguel? Miguel è qui. Ok, allora raccontiamo magari un po' ai ragazzi, racconta tu come è stata, che cosa dobbiamo fare nell'appartamento, considerando che appunto l'hai chiusa tu. E niente, come al solito un annuncio molto nuovo, abbiamo fissato per visionarlo, abbiamo fatto la proposta, abbiamo qua acquistato A78.000, qua andremo a creare tre locali. Questa parte qua che vedete, in questo momento è addivittura a soggiorno. Noi qua quel muro dra via, creeremo un open space, soggiorno e cucina insieme, e poi di qua, dove in questo momento troviamo la cucina, qua andremo a ricreare la cameretta, dove da qui abbiamo anche l'ingresso, abbiamo l'uscita qua per il balcone, che si vedete, c'è anche qua, si può accedere direttamente anche al soggiorno. Invece di qua, dall'altra parte, andremo a creare la nostra camera principale, che in realtà è già qua, andremo direttamente a rifare tutto il bagno completo, come le solite restrutturazioni che facciamo. Ripeto, qua abbiamo acquistato A78, e andrà in vendita A135.000. Vabbè, io faccio finta di non esserci comunque, diciamo che abbiamo fatto, avete visto. Allora, lui dice A635, secondo me 140 dirregge tranquillamente. Ciao ragazzi. Pot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare, magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive, e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari, in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il foto che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom, che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.